Una veste grafica inedita, un programma differenziato in rassegne, un'accoglienza consolidata in un clima rinnovato. Riparte live in Villa di Donato, stagioni di musica, arte, performance e incontri. La dimora storica, grazie a un'idea della padrona di casa Patrizia De Mennato, è diventata oggi un vero e proprio pollo culturale. Lo scopo è quello di offrire momenti di fruizione artistica di qualità in un luogo inusuale, che rimane però a tutti gli effetti casa, e anche quello di sperimentare e innovare attraverso un claim nuovo, dove la cultura dimora, un sito rinnovato, iniziative di comunicazione più aggiornate ed efficienti. Abbiamo recuperato quelle che sono le linee guida delle nostre rassegne, che sono prevalentemente un caledoscopio di incontri tra musiche diverse e voci diverse. Dico musica diversa perché quest'anno, grazie al sostegno del Comune di Napoli, abbiamo iniziato quella che è la musica ha trovato casa, nella quale sono state convogliate tutte le forme di musica che erano già presenti all'interno della villa. Oltre questo, con il contributo della Regione Campania, inizieremo con Voci per Pasolini, che è un altro punto di forza della nostra villa. Da ottobre 2022 a giugno 2023 la parola d'ordine della programmazione è caledoscopio. Uno spazio significativo è riservato ai giovani talenti, grazie al laboratorio permanente di musica d'insieme, diretto da Brunello Canessa. Viaggerà su due aspetti diversi, uno è quello didattico, cioè abbiamo ideato un laboratorio permanente di musica d'insieme per giovani musicisti, con una serie di concerti che si faranno tutti nel 2023 e poi la grande abbinata dedicata a quasi un'esposizione di Mussolski nella versione classica, pianistica, è quella rock anni 70 di Emerson, Lake & Palmer. Il Teatro Canzone, poi curato da Giacomo Casaule, presenta appuntamenti avvincenti. A quest'anno si riporta il Teatro Canzone con una rassegna apposita che è composta da tre spettacoli, di cui il primo sarà il 5 novembre, dedicato a Napoli, dedicato a Enri De Luca, che si chiama Napolidi, e poi quello che è stato il grande genere drammaturgico ideato da Giorgio Gaber negli anni 70, e poi una sorpresa finale con un grande amico maestro, che è Brunello Canessa, in cui le due rassegne in qualche modo si intrecciano e faranno, spero, divertire ed emozionare il pubblico presente. David Romano ha curato anche due sorprese. Max 70 è la rassegna di musica classica di Villa di Donato, e quest'anno, inteso proprio nell'anno cronologico, ovvero entro il 31 di dicembre, presenteremo in questo salone tre capolavori di musica russa. Il periodo si presta, è il caso di dire, in particolare perché i tre compositori che noi andiamo ad affrontare sono legati insieme, esattamente come una matrioska, sono l'uno l'allievo dell'altro. Grazie. 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 Grazie.